Cari amici, stagione di premi letterari, il momento delle grandi coalizioni, delle grandi case editrici in corsa per i premi più importanti a cominciare dalla stagione dello strega del campiello. Anche Palermo naturalmente ha i suoi premi importanti e meno importanti, più giovani e comunque consolidati. Tuttavia la nostra riflessione di questa serata è proprio su questa istituzione, diciamo che ormai è anche ritualmente legata alla vita del libro, alla vita della cultura, alla vita dell'arte, della musica, del teatro. La domanda è servono i premi letterari? Naturalmente molti di voi sanno che chi parla in questo momento è anche un animatore, è anche componente di molte giurie, presiede tanti premi letterari, quindi sarebbe scontato da parte vostra poter pensare che Tommaso Romano è certamente favorevole ai premi letterari. Tuttavia il dato più importante che a me pare dovere sottolineare è il seguente, innanzitutto non tutti i premi letterari sono premi legati a consorteria o gruppi o lobby, ci sono premi molto liberi, io devo dire che non ho mai avuto pressioni di tipo particolare né dagli autori delle case editrici, ho sempre partecipato a premi anche come giurie importanti, anche qua in Sicilia, dal Mediterraneo al premio Marineo dove tuttora sono in giuria e devo dire che i premi più seri sono e meno influenze hanno, soprattutto dai componenti delle giurie, i componenti delle giurie fanno molto la differenza. Quindi quando vedete una giuria prestigiosa o comunque fuori dal gioco degli interessi, ecco potete stare anche tranquilli, partecipate quindi. Seconda cosa e consiglio ai nostri telespettatori, partite dal gioco, non partite dall'interesse spasmodico di vincere. In premio letterario, specialmente per l'inedito ma anche per le opere edite, dovete prenderlo come una sorta di test, probabilmente potrà andare bene, probabilmente no, tuttavia è un modo per fare girare le proprie opere, per fare, mettere attenzione alle cose che si fanno. Spesso c'è anche un tramite per poi arrivare alle case editrici, per poi arrivare a un pubblico più vasto, del resto io penso che l'autore innanzitutto debba essere soddisfatto con se stesso, debba cioè essere a posto con la sua coscienza e poi deve fare un cammino. Naturalmente il libro ha una strada ancora più complessa perché ha bisogno della libreria, perché ha bisogno delle presentazioni, ha bisogno delle recensioni e tutto questo è molto difficile. E tuttavia il libro cammina, il libro ha una storia, ancora di più dell'inedito, il libro serve a farsi più rappresentare e conoscere con la propria opera. Quindi in linea di massima io sono favorevole ai premi letterali, sono favorevole alla partecipazione, ma soprattutto invito i giovani, invito tutti quelli che amano l'arte e la cultura a mettersi in discussione, perché in fondo ogni giorno noi dobbiamo scegliere di metterci in discussione e anche il concorso letterario è un modo per poter verificare la presa che noi abbiamo. Poi la vittoria è un dato positivo, bello, ma non è detto che debba arrivare né subito né immediatamente, potrà arrivare una segnalazione, un premio. L'importante è non partecipare, avere la coscienza che l'arte non è punto di arrivo, ma punto sempre di verifica, sempre di conoscenza. E in questo senso allora proporre le proprie opere, proporre il proprio nome e anche proporre se stessi come libro aperto, come modo di essere. E ci sarà sempre un buon lettore, i famosi lettori, i pochi lettori manzoniani, ma ci sarà sempre un buon lettore che ci troverà per strada, che troverà il nostro racconto, la nostra poesia, il nostro saggio, ci sarà sempre qualcuno insomma che potrà entrare in dialogo con noi. In fondo scrivere è anche questo, ascoltare, recepire, trasmettere, dialogare. Ecco in questo senso allora anche questi piccoli strumenti, come può essere la televisione, per far conoscere la propria opera, che è uno strumento oggi straordinariamente privilegiato, come questa trasmissione, che ormai da anni è una trasmissione leader, anche copiata fra l'altro. Quindi vediamo come arte e cultura ormai dell'amico russo è diventata una trasmissione copiata, una trasmissione che viene inserita anche sotto altre formule. Ciò vuol dire che la formula esiste, è una formula giusta, è una formula vincente. E allora usiamo questi mezzi, andiamo con umiltà, ma viviamo anche la stagione della intrapresa, della capacità e del rischio che poi sono anche di chi scrive e di chi compone e di chi dipinge e di chi scolpisce, insomma dell'artista. Grazie.